Bella boys, sono Goro, benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a reagire a Milano Shot di Shiva Vengo dalla reaction, proprio in questo istante Ho appena finito la reaction a Rondo, un nuovo singolo Vi apparirà adesso in alto a destra Raga, mi raccomando, non ve la perdete E niente, quindi... E niente, non ho ancora ascoltato Milano Shot Sì, come sempre raga, spoiler su Instagram, robe così Però nulla di concreto Molto interessante, sono molto interessato a vedere Il mio amico mi fa che ci sono un botto di barre interessanti Ovviamente raga, sappiamo che Shiva Proprio un fatto di barre, non delude Allora, questo video è stato realizzato 24 ore prima Dell'arresto di Shiva Diviso 6 in 24, vabbè, sei in scene Ok, let's get it Iniziamo la reaction Vabbè, Free Bix E Free Shiva ovviamente Free Santana Gang, vabbè Ah, Finesse è forte, figa Questa coppia Finesse Shiva Vedo che sta prendendo abbastanza piede Ok, Milano Shot Sentiamo Ok Sto scrittando già Una Shot, credo sia una pistola Sì Ahma, ok Raga, questa è una barra Raga, se avete sentito questa è una barra Cioè lì da sta barra Stavo cercando di capire dove stava andando Raga, come l'ha chiusa veramente Complimento Negli ubriaci Cioè raga Pensavate che facevamo l'hacking Dovete vedere come sono scappati Avete preso più shots degli ubriachi Raga, questa è una barra intelligente Cioè raga Vedete quello che dico Ognuno deve fare quello che funziona Raga, noi sappiamo che Shiva Sa fare le barre E quello che fa lui Rondo, dall'altra parte Deve tornare a fare la roba Energetica Dove sa fare Dove grida Dove è il suo Capito? Perché così È one-sided Capito? Cioè il beef è one-sided Raga, sono tante barre che mi perdo Che ogni volta che torno indietro A sentire Porca troia Capisco cosa dice E torno ancora indietro Indietro e continuo a fare così Però veramente complimenti Barre Per essere un freestyle Fatto 24 ore prima di andare in carcere Si sente che ha voluto mettere tutto Tutto quello che sentiva dentro Milano-Ovest Sono di Milano-Ovest pure io Quindi Punto in più Raga Ok Oh shit Raga Se questo l'ha fatto 24 ore prima di entrare in carcere Mi sa che è lì da un paio di mesi No già Un mesetto Che cazzo che avevamo? Due mesi? Mi significa che Già da qui Le cose con Rondo Non andavano troppo bene Se dice Mascherati come Simba Sembra un inca tipo Comunque Un'altra barra Veramente Raga Un livello superiore Però Vedere a terra Per poi colpirci alla schiena C'è ancora C'è ancora Sì Oh mar Storniamo indietro Raga Questo è fuori Ok va Sì 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 Eh si sente Sì Non leggermi nei pensieri Non mi fuma Contro raper Più deboli Sappiamo chi è stato il mandante È chiuso in casa Con sette mandate Dio ci ha mandato insetti da schiacciare Capisci perché sto nel bene e nel mare Cosa è accadente? Ero l'armadio pieno di sedie e di scheletri Sappiamo chi è stato il mandante È chiuso in casa con sette mandate Sappiamo chi è stato il mandante È chiuso a casa con sette mandate Ok Dio ci ha mandato insetti da schiacciare Capisci perché sto nel bene e nel mare Eh esatto Ronde sarebbe Sarà ragazzi Sarò di parte Milano Nord-Ovest Però ragazzi Raga Sto bifo Mi sembra A volte One-sided Raga Veramente Cioè Raga Shiva Dietro il microfono Sa Sa parlare Vediamo cosa dice È lui Cosa c'è lo scrive Carcere San Vito Niente boys So cosa dire Sicuramente Aspettato Raga Sento che C'ha la rabbia dentro No La famosa rabbia Si sente quando Quando spitta dal microfono Raga Veramente Cioè Complimenti Cosa avevo detto A volte Mi sembra un beef One-sided Cioè Probabilmente Tira certi shot Che Boh Non so che cazzo dire Veramente Niente Reazione a Milano Shot freestyle Come ho sempre Visual Potenti Musica potente Niente da dire Raga Milano Nord-Ovest Che cazzo devo dire Dai raga Ci diamo alla prossima Bella